E va del fisco ma la guardia di finanza lo scopre sequestrati beni per 500 mila euro ad un agente di commercio di cartoceto. L'oretto è in mini lockdown, il sindaco Pieroni chiude le scuole e i parchi fino a domenica 28. Abbiamo troppi contagi, persone in quarantena che escono di casa, verranno aumentati i controlli. Insieme nella vita e nella lotta contro il covid, la storia di Bruno e Diva Contardi che hanno sconfitto il coronavirus dopo un lungo ricovero in terapia subintensiva al San Salvatore di Pesaro. Una barriera di cemento sulle silicate che li fa sentire intrappolati protesta dei residenti sulla statale a Pesaro per il muro di New Jersey installato dall'ANAS. Quando si esce è pericoloso, quando si entra è più pericoloso ancora. Presentata in comune a Fanno, l'Adriatic Link, la nuova linea elettrica che collegherà Marchi Abruzzo. L'azienda Terna investirà oltre un miliardo di euro. 120 le imprese coinvolte per il collegamento di 285 chilometri. E' tempo di quaresima, stiamo insieme e prendiamoci cura gli uni degli altri. Il messaggio di Don Francesco Pierpaoli che annuncia alle famiglie l'acqua benedetta e la lettera del Vescovo Armando Trasarti dedicata alla condivisione e alla speranza di un mondo migliore. Un cordiale saluto dalla nostra redazione e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale. Apriamo con l'operazione portata a termine dalla Guardia di Finanza di Fanno che ha scoperto un evasore fiscale residente a Cartoceto. All'uomo che ometteva la dichiarazione dei redditi sono stati sequestrati conti correnti, terreni e veicoli. Aveva omesso e dichiarato infedelmente i suoi redditi per gli anni 2016 e 2017. Aveva distrutto e nascosto le scritture contabili e tentato di impedire, così facendo, la corretta ricostruzione di quanto percepito. Adriano Cardinale, 57enne di Sant'Anna di Cartoceto, pensava di farla franca, ma la Guardia di Finanza è riuscita a scoprire i guadagni occultati al fisco e a denunciarlo. Le fiamme gialle hanno quindi sequestrato beni per un valore di circa 500 mila euro all'uomo, titolare di una ditta e operante come agente rappresentante di prodotti non alimentari. La minuziosa attività svolta dalle fiamme gialle, anche attraverso le banche dati, ha portato a un procedimento penale, a una sanzione e condanna nei confronti dell'imprenditore. Il sequestro preventivo per equivalente è stato disposto su decreto del giudice per le indagini preliminari e messo su richiesta della procura di Pesaro. Riguarda conti correnti bancari, due terreni, due automobili e tre motocicli. Ora sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri beni e disponibilità riconducibili all'evasore totale per raggiungere l'intero importo contestato. Proprio nel momento in cui la crisi sanitaria ha indebolito ulteriormente il sistema economico accentuando fenomeni di illegalità, si legge in una nota, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro si pone come baluardo a difesa delle imprese e dei contribuenti onesti, al fine di tutelarli da quell'illecito vantaggio competitivo ottenuto dalle aziende concorrenti che frodano il fisco. Questo modello di etica imprenditoriale, hanno concluso i finanzieri, va preservato, custodito e sostenuto. Ancora cronaca, un tecnico dipendente di una ditta di termoidraulica è stato denunciato dai carabinieri per furto. L'episodio è avvenuto due giorni fa durante un intervento in un'abitazione privata a Senigallia. Mentre il collega stava eseguendo delle riparazioni, un 44enne di Monte Marciano si è allontanato per andare nella camera da letto e rubare due collane e un bracciale in oro custoditi in un portagioie. Del furto si è accorto il proprietario di casa che ha allertato i militari. I carabinieri sono risaliti ai due dipendenti della ditta, scoprendo però che soltanto uno di loro era coinvolto nel fatto. L'altro lavoratore e l'azienda sono risultati estranei. La rifurtiva del valore di 1.800 euro è stata rinvenuta nell'auto utilizzata dall'uomo per lavorare ed è stata restituita al legittimo proprietario. A Pesaro invece i carabinieri hanno sanzionato un 57enne da altre 4 persone per assembramento. i cinque si trovavano a luna di notte in un appartamento di Via del Monaco, dal quale si sentivano schiamazzi e musica. Gli ospiti che provenivano da un'altra città hanno violato anche il coprifuoco, per ciascuno 400 euro di multa. E adesso agli aggiornamenti che riguardano il coronavirus. Rimane alto il numero di decessi nelle Marche. Nelle ultime 24 ore sono morte 17 persone, di cui 5 residenti nella provincia di Pesaro Urbino. I nuovi positivi invece sono 471, più della metà sono stati registrati nella provincia di Ancona, mentre in quella a Pesarese sono 85. I ricoveri negli ospedali della regione sono in leggero calo per un totale di 612, meno due degenti in terapia intensiva, meno uno in semi-intensiva. L'oretto chiusa per Covid è la decisione del sindaco Moreno Pieroni, che per evitare assembramenti ha chiuso spazi pubblici, mostre e scuole di ogni ordine e grado. Dopo aver saputo anche di persone in quarantena uscire di casa, violando quindi le norme anticontagio, il primo cittadino ha annunciato un aumento di controlli. Il servizio di Letizia Marchionni. Chiusi parchi, giardini e spazi pubblici a Loreto, dove da ieri fino al 28 febbraio rimarranno serrati anche i battenti delle scuole di ogni ordine e grado, attivando la didattica distanza. La città mariana fa da sé e chiude per Covid. Con i contagi che corrono, complice anche la variante inglese, il primo cittadino non ha esitato ad anticipare le misure restrittive attese dall'alto, poi arrivate ieri, quando il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato l'ordinanza per mitigare il flusso dei cittadini in entrata ed in uscita dal territorio della provincia di Ancona, in vigore fino alla mezzanotte di sabato. Ad oggi sono 175 i positivi nella città mariana e 170 le persone in quarantena. Abbiamo ritenuto importante anticipare tutte le decisioni anche dell'Istituto Superiore della Sanità, ha spiegato il sindaco Moreno Pieroni, proprio perché Loreto e l'amministrazione volevano lanciare un messaggio ai concittadini ed anche all'intera collettività regionale. La città di Loreto, io dico purtroppo in questo ultimo anno, non ha avuto più la presenza né di pellegrini e turisti, se voi pensate che nella città mariana, con questo santuario mondiale, nel 2019, negli anni passati raggiungevamo anche un milione e mezzo, un milione e ottocentomila arrivi, non avendo questi numeri, non avendo proprio nessuna presenza e non avendo locali come dire di grande assembramento e quindi locali privati, l'analisi che abbiamo fatto nasceva dal rapporto scuola-famiglia, quindi il maggior numero di casi nascevano o dalle famiglie o dalle scuole. Non si tratta di una zona rossa ma poco ci manca, sommando l'ordinanza regionale nata da un giusto confronto, secondo Pieroni, con le amministrazioni delle zone interessate, con quella emanata dal primo cittadino, si ottiene un clima dal sapore di lockdown. Nonostante ciò, però, ha spiegato Pieroni, i loro età ne hanno accolto con comprensione le nuove restrizioni. Abbiamo fatto una scelta molto forte, consapevoli di aver chiesto ai nostri concittadini un ulteriore sforzo, ma certi che tutti insieme si possa superare questo momento. E' stata chiusa anche la mostra su Raffaello, riaperta poco tempo fa dal Comune. Abbiamo fatto anche un'ulteriore, due iniziative che vanno fuori dall'ordinanza. Abbiamo deciso di controllare quotidianamente coloro che sono in quarantena. Ci hanno giunto notizie da tanti cittadini che tanti che sono in quarantena, tanti, diciamo alcuni che sono in quarantena, uscivano dalle proprie abitazioni per andare a fare spese o quant'altro. E quindi questo non deve più accadere, quindi già da ieri hanno cominciato a fare i controlli. L'altra è che stiamo controllando fortemente i centri commerciali. A Loretto ce n'è soltanto uno, un piccolo o medio centro commerciale. Poi tutti i supermercati dove anche lì sappiamo che si possono avere assembramenti maggiori. La stragrande maggioranza dei Loretani hanno preso con grande soddisfazione questa ulteriore situazione. Poi naturalmente io capisco bene le difficoltà dei genitori perché la chiusura delle scuole comportano sicuramente delle problematiche all'interno della famiglia per la gestione dei figli e quant'altro. L'onestà intellettuale di queste famiglie farà sì che a mano a mano nel tempo tutti insieme possiamo capire che per il bene dei nostri figli dobbiamo fare delle iniziative. E questa sera vi raccontiamo la storia di Bruno e Diva Contardi, una coppia marottese sposata da 61 anni che ha vinto la battaglia contro il coronavirus. Nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, recita così la famosa formula matrimoniale che Bruno Contardi e sua moglie Diva Tranquilli hanno pronunciato ormai 61 anni fa e dalla quale ancora tengono fede come se fosse il primo giorno. A metterle alla prova è stato proprio il Covid-19. Entrato in casa Contardi a Marotta a metà gennaio, il virus ha tentato di separarli ma grazie all'amore che li unisce hanno vinto insieme la malattia. Lui 89 anni, gestore di alberghi in pensione, lei 84, era la sarta del paese. Si sono contagiati e sono guariti assieme, passando anche l'adegenza fianco a fianco, seppure in due stanze diverse, nello stesso reparto d'ospedale. È Matteo Contardi, il nipote, a raccontarci la loro storia a lieto fine. Per primo è stato male mio nonno che ha avuto i classici sintomi di febbre, tosse e difficoltà respiratorie che non andavano, nonostante la terapia di cortisone e antibiotici e tachipirina domiciliare, non andavano diminuendo. Dopo tre giorni gli stessi sintomi più o meno sono iniziati anche mia nonna ed entrambi non solo non diminuivano la febbre e questi sintomi, ma continuava a diminuire la saturazione d'ossigeno che era arrivata fino all'80-82%. A quel punto lì abbiamo subito chiamato l'ambulanza ed è necessitato ricovero. Prima sono andati al pronto soccorso di Fano, lì hanno fatto tampone e TAC. I tamponi sono risultati positivi, la TAC ha dato un esito di una compromissione polmonare maggiore del 50% e da lì subito trasferiti nel reparto di terapia subintensiva. Prima il ricovero di nonno Bruno, raggiunto tre giorni dopo dalla moglie d'iva nel reparto di subintensiva Pesaro. Temevamo il peggio, racconta Matteo, ma poi ecco il miglioramento. Invece di peggiorare rispondevano sempre meglio alle cure finché non c'è stato più nemmeno bisogno del respiratore. Per mio nonno è stato trovato un plasma iperimmune compatibile che nel suo caso ha dato buoni risultati. E così anche il virus dopo oltre 20 giorni di malattia davanti all'affiatata coppia si è arreso. Bruno e Diva sono potuti finalmente tornare a casa. Quindi è andata, possiamo essere sinceri, oltre più ogni rosa è aspettativa che addirittura entrambi per le condizioni e l'età in cui sono arrivati si potessero salvare e migliorare insieme e tornare a casa insieme. È stata una cosa, diciamo, un caso molto bello dovuto sicuramente all'abilità dei medici e alle terapie tempestive e anche magari anche alla forza fisica dei miei nonni che hanno reagito bene. Quando sono tornati in casa entrambi hanno detto non ci speravamo, erano abbastanza commossi, contenti perché anche loro in un periodo peggiore quando stavano proprio male e sono stati ricoverati i primi giorni hanno detto pensavamo che non saremmo più tornati e invece siamo tornati e non ci credevano. Erano contentissimi. Protesta a Pesaro per il muro di New Jersey che è stato installato sulle Siligate un provvedimento adottato dall'ANAS ma che è ritenuto pericoloso dai residenti. Li ha intervistati per noi Angelica Panzieri. Gli addetti ai lavori dell'ANAS hanno posizionato questa lunga barriera di New Jersey sulle Siligate e protestano i residenti che si sentono in gabbia. Ci sentiamo in trappola. È il grido d'allarme lanciato dai residenti che abitano nel tratto di strada statale lungo il valico delle Siligate dove da giorni l'ANAS sta lavorando per installare il lungo spartitraffico il quale dovrebbe eliminare il rischio di incidenti frontali. Ma allo stesso tempo, nell'ottica dei residenti, è causa di un grande pericolo. Infatti i New Jersey, posizionati ad un metro e mezzo di distanza dal cancello delle loro case, creano una barriera che genera disagi quotidiani e peraltro non è funzionale alla riduzione della velocità. Nessuno, come ammettono gli stessi residenti, rispetta il limite dei 50 chilometri orari. Un centinaio di essi si è costituito in comitato per impedire la nuova viabilità stabilita da ANAS. La barriera, infatti, rende difficili anche le inversioni di marcia, come raccontano gli stessi residenti. Io penso che è un pericolo continuo e non abbiamo più possibilità di uscire dal nostro passo perché l'abbiamo pagato per 63 anni che paghiamo il passo all'ANAS. Adesso ce l'è inchiuso con la barriera. Qui bisogna stare attenti che passano sopra, con la velocità, passano qui sopra i marciapiedi. Dobbiamo andare a Gabizze, dobbiamo andare prima a Cattavrighe, ma è mai possibile. Noi siamo ormai anziani e chi ci porta? Prima dovevano fare la rotatoria, poi se volevano fare questo lavoro lo potevano anche fare, però prima ci doveva anche agevolare un po' anche noi. Chi siamo noi? Abbiamo pagato sempre tutto, abbiamo sempre pagato tutto, è una cosa impossibile. Quando si esce è pericoloso, quando si entra è più pericoloso ancora perché vengono due le macchine dietro, io devo voltare, cosa fai? Adesso il Comune ci dovrebbe fare una bretella là dietro per non andare a girare laggiù in fondo, una bretella là dietro, così possiamo andare su per andare a Cattolica, giriamo qui per Fironzola, quella è l'unica cosa che ci possono fare. Al via dal lunedì 22 febbraio le domande per accedere ai contributi dell'ultimo intervento previsto dal Comune rivolto a situazioni di disagio abitativo ed emergenze sociali. Le famiglie pesaresi che più hanno subito i contraccolpi della crisi economica dovuta al Covid-19 potranno usufruire del fondo anticrisi da 400 mila euro. Tutti i requisiti e i tempi per presentare il modulo li troverete nel nostro sito occhioalanotizia.it Ed è tempo di quaresima, quest'anno niente visite alle famiglie da parte dei sacerdoti, per questo la diocesi consegnerà ai fedeli l'acqua benedetta ma anche una lettera del vescovo Armando Trasarti. Il servizio di Filippo Pucci. Oggi entriamo nel periodo di quaresima. Questa mattina all'interno del Duomo di Fano, Monsignor Ugo Ugi ha preseduto la liturgia della parola con il rito delle ceneri. Ecco, stamattina nella nostra diocesi il vescovo non sarà presente lui, non è stato presente lui, ma il suo vicario ha imposto le ceneri ai sacerdoti, ai diaconi, perché noi stessi come preti entriamo in questo tempo, non da maestri, ma condividendo, come il vescovo sta facendo adesso, condividendo la vita delle persone. Quindi abbiamo vissuto questo gesto. Oggi in tutte le parrocchie, credo anche in questo momento, in tante parrocchie si vivrà lo stesso gesto e domani noi preti ancora avremo un momento, sempre attraverso Zoom, quindi online, in cui ci informeremo e ci formeremo ancora per poter vivere una spiritualità veramente pasquale. Anche quest'anno annullate le visite annuali nelle case delle famiglie e dei quartieri, un'occasione molto sentita dai fedeli, grazie all'incontro e alla conoscenza tra il ministro e le singole persone o nuclei familiari. Come per lo scorso 2020, sono state trovate altre modalità, purché non sia tolta l'efficacia pastorale di questo gesto e non diventi un puro e semplice atto di cortesia. In tutte le parrocchie si stanno cercando dei modi con prudenza perché ci sia un incontro. Quindi si favoriranno le chiese, che rimangono ancora luoghi in cui si può pregare, e le famiglie ritirando, prendendo l'acqua benedetta, potranno fare questo gesto nelle loro case, ricordando che la benedizione è la loro vita che si prende cura dell'altro. Questa è la vera benedizione di Dio, che l'acqua benedetta semplicemente conferma e ci spinge a vivere. Oltre all'acqua benedetta sarà consegnata anche una lettera con all'interno uno schema di preghiera e il messaggio del Vescovo Armando Trasarti. La lettera del Vescovo che tende a sottolineare questo legame tra Quaresima e Pasqua. Non c'è Quaresima senza Pasqua. La vita non è una Quaresima in un deserto che non trova mai una terra promessa. Quindi il Vescovo spinge molto su questa speranza che tutti dobbiamo avere. Certamente insieme, ecco, siamo tutti sulla stessa barca, ma in questa barca dobbiamo stare uniti, perché se andiamo o da una parte o dall'altra la barca si rovescia. E questo credo sia importante. Quindi questa speranza che il Vescovo, nella sua lettera che poi sarà divulgata in tutte le case, in tutta la nostra città e diocesi, diventi veramente la spinta verso questo mondo migliore, in cui, come dice Papa Francesco, fratelli tutti. Entro il 2029 sarà pronta la nuova linea elettrica tra Fano e Villanova in Abruzzo. L'opera che è stata annunciata questa mattina aumenterà la sicurezza, ma anche la capacità di trasporto dell'energia. Si chiama Adriatic Link, sarà lungo a 285 chilometri e coinvolgerà circa 120 imprese per la sua realizzazione. L'azienda Terna S.P.A. ha avviato la progettazione del nuovo elettrodotto in corrente continua tra Villanova di Cepagatti in Abruzzo e la città di Fano. L'opera definita innovativa e necessaria aumenterà il transito e la sicurezza dell'energia elettrica dal centro-sud Italia verso le Marche, che con il meno 67% in base ai dati del 2019 è la regione italiana con il più alto deficit tra energia consumata e quella prodotta. Si tratta di un progetto strategico per il sistema elettrico nazionale e in generale per il processo di decarbonizzazione che è in atto e le cui linee guida sono state definite dal Piano Nazionale Energia e Clima predisposto dal governo italiano ed infatti quest'opera è stata inserita proprio fra le opere necessarie per il piano stesso. La scelta della tecnologia in corrente continua permette quindi di avere un impatto minimo sul territorio in quanto realizzata attraverso la corrente continua che non determina campi elettromagnetici e con, peraltro, soluzioni totalmente interrate o attraverso cavo marino. Il tracciato terrestre sarà lungo 35 chilometri verrà utilizzata per lo più la viabilità stradale esistente con la posa dei cavi in piccole trincee larghe 80 centimetri e profonde un metro e 60. Invece, la posa dei cavi in mare raggiungerà una profondità massima di 250 metri, mentre in corrispondenza della battigia saranno ad una profondità che va dai 4 agli 8 metri. L'intervento, assicurano gli esperti, verrà realizzato secondo i migliori standard di sostenibilità e di tutela ambientale. Non genera campi elettromagnetici, come ha precisato il vicepresidente della regione Mirko Carloni, e ci sarà un coinvolgimento sia dei rappresentanti dei tavoli tecnici e ambientali, sia della cittadinanza per illustrare il progetto e definire i dettagli e le zone coinvolte. Ad esempio, sono al vaglio tre siti, tra Fano e Cartoceto, per una stazione di conversione al chiuso. Dal punto di vista realizzativo, oggi siamo e diamo avvio a quella che è la fase di concertazione col territorio per, secondo il processo di progettazione partecipata, seguito da Terna per realizzazione delle proprie opere, che si concluderà, riteniamo, nel corso del presente anno. A partire dal prossimo anno sarà avviato l'iter formale di autorizzazione che, prevediamo, possa concludersi nel 2024 e da questo poi inizierà la parte di realizzazione vera e propria che sarà sicuramente conclusa entro o non oltre il 2029. Il costo dell'intervento? Il costo dell'intervento è stimato in 1 miliardo e 100 milioni. È da oggi in circolazione tra Ancona, Macerata e Fabriano. Un nuovo treno swing. Diventano così 24 i nuovi treni regionali già in circolazione nei binari delle Marche. È una giornata molto importante, molto importante per Trenitalia, molto importante in generale per la regione Marche. Abbiamo inaugurato un nuovo treno, uno swing, un treno diesel di ultima generazione, ma è solo l'inizio di un piano di investimenti che porterà in regione fino a 25 treni nuovi. Si è investito già con decisioni di anni fa e si è portato a termine l'investimento. È importante che le persone salgano sul treno, lo provino, capiscano, toccandolo con mano, tutto quello che stiamo facendo, lo sforzo che stiamo facendo, perché dobbiamo spostarci tutti sempre di più in treno. Io sono convinto che chiunque verrà su questo treno lo proverà, capirà cosa voglio dire e ci ritroveremo mano a mano in futuro con più persone che avranno voglia, si divertiranno, saranno comode a viaggiare in treno. Parliamo anche di un trasporto che ci ha permesso nei mesi scorsi di far spostare le persone con grande sicurezza. Quindi prendete il treno anche perché è sicuro. Un'unità importante per dare un servizio ulteriore, e soprattutto perché è simbolicamente anche importante a dare un'aspiranza di ripresa, di ritorno alla normalità in questa fase così complicata e difficile. Stiamo progettando, si sta progettando il rilancio del nostro territorio anche dal punto di vista turistico, la riscoperta dei borghi, la riscoperta del nostro entroterra, un segnale verso anche le aree colpite dal sisma che così tanto hanno sofferto e che la pandemia non ha fatto altro che aggravare una situazione già che era molto pesante. Un nuovo protagonismo che va costruito passando anche e soprattutto per la mobilità, perché la nostra è una regione che vive un po' un isolamento atavico da tanti anni, ma la capacità di immaginare un'intermodalità tra ferrovie, autobus, aeroporti e strade e autostrade può essere sicuramente un'opportunità di rilancio e di vedere la nostra regione per essere vissuta in maniera diversa, di vedere la nostra regione protagonista anche sotto questo punto di vista. E il nuovo testimonia della Regione Marche è il CT della Nazionale di Calcio. Roberto Mancini lo ha stabilito oggi la Giunta regionale con una delibera con la quale individua il commissario tecnico che guida gli azzurri originario di Iesi e sportivo di fama internazionale come testimonial per la promozione turistica della Regione fino al 2023. Sono felice che Mancini abbia accettato la sfida di rappresentarci in Italia e nel mondo, afferma il Presidente Francesco Acquaroli, e di aiutarci a valorizzare le nostre bellezze e farle conoscere il più possibile. Lo ringrazio per l'entusiasmo e la disponibilità dimostrata già fin da subito. E vi annuncio che lunedì sera torna primo cittadino, l'ospite sarà di nuovo il Sindaco di Fano Massimo Seri, vedete in questo cartello tutti i recapiti di riferimento. Tra poco invece una nuova puntata di Guarda chi c'è con Francesco Adornato, magnifico rettore dell'Università di Macerata e poi un approfondimento con il direttore e tutti i sanitari del reparto di gastroenterologia del Santa Croce di Fano. domani mattina alle 7, la nostra rassegna stampa, occhi ai giornali. Arrivederci. ru a tutti. Autore dei sovrapposti